Sì, nell'anno di Leonardo abbiamo voluto parlare di innovazione, parlare di questo giardino delle meraviglie che è la Lombardia, Milano, dove imprenditori e geni si incontrano e sviluppano l'innovazione molto importante per le nostre imprese, per il futuro del nostro paese. Un quinto della ricerca viene fatta proprio in Lombardia, 4,8 miliardi, un terzo dei brevetti viene fatto in Lombardia e quindi il futuro dell'Italia e di questo territorio è proprio qua.